È una realtà dinamica non ripiegata e animata da giovani, soprattutto quelli liguri, ben lontani dalla logica dei cosiddetti bamboccioni. Questo in sintesi il quadro emerso dal convegno Giovani e Lavoro, ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari. La realtà giovanile presente sul territorio ha forti potenzialità, spesso non supportate da adeguati mezzi. Sono in molti casi una generazione digitalmente formata, quindi sono capaci di presentarsi a tutti i livelli, attraverso i social, attraverso altre cose. Però non riescono a incrociare un mondo del lavoro che è più appartenente al passato che al presente. Quando questo match, questo incontro avviene, guidato, aiutato da professionisti, da persone competenti, ecco che il giovane può esprimere tutta la sua potenzialità. E questo è il grande aiuto che come Chiesa ci sentiamo di fare. Il dibattito ha preso avvio dall'analisi condotta da SVG, agenzia di ricerca, su un campione di 683 ragazzi delle scuole secondarie di Chiavari, scelti tra licei e istituti tecnici professionali. Mentre la maggioranza dei giovani italiani è spaventata dalle innovazioni, nei giovani liguri c'è una buona capacità di accettare la sfida dell'innovazione, dell'industria 4.0, della società che viene. Allo stesso tempo ci sono preoccupazioni forti sul futuro, soprattutto sul tema della qualità del lavoro. E tutto il processo che noi abbiamo analizzato sull'alternanza scuola-lavoro soddisfa in modo particolare i ragazzi degli istituti professionali, però lascia molto delusi i ragazzi dei licei. Il 42% dei ragazzi interpellati si dice in attesa. Le preoccupazioni dei giovani chiavaresi si concentrano sull'incertezza di un futuro lavorativo, 45%, di un lavoro stabile, 41%, o che consenta un giusto tenore di vita, 27%. Tra le matricole vincono la gioia e la fiducia. La prospettiva di un'esperienza lavorativa all'estero deve essere vista come bagaglio culturale importante, ma non definitivo. Consiglio ai giovani di allargarsi nel mondo, di far sì che non siano più isolati come è stata la nostra regione per tanto tempo. Bisogna allargarsi al mondo, andare in giro, vedere come funziona il mondo fuori, dopodiché con questa esperienza ritornare e fare una regione grande. Importante però poi ritornare. Assolutamente sì, io sono ritornato un po' tardi, ma sono ritornato anch'io. Grazie.